Teledurruti e i suoi, diciamo pure, vistosi interrogativi. E infatti non è la prima volta che ci domandiamo che fine abbia fatto un artista, come dicono i DJ, coloro che mettono i dischi. Già, che ne è di Manuciao? Per anni abbiamo sentito alla radio, piuttosto subito, finco della maniana, ma adesso dove è Manu, Manuciao, finco della maniana? Quanto può aver caccato lo cazzo, Manuciao? E se tu cacchi lo cazzo per anni, quando non me lo cacchi più, io non posso fare meno di interrogarmi su dove tu sia, finco della maniana. Guarda, te lo dico perfino con il cappello da Torrego. Dov'è adesso Manuciao, che per molto tempo ci ha caccato lo cazzo? Finco della maniana. Teledurruti, Fulvio Abate. Finco della maniana. Non ricordi, finco della maniana, quanto ci caccava lo cazzo? Mi piace tua cugina, 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 mi piace tu. Finco della maniana. Carcamento del cazzo. E volevo essere meno greve, ma alla fine non ce l'ho fatta. Teledurruti, Fulvio Abate. Grazie. Grazie.